Riforma della giustizia con particolare riferimento alla sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio in vigore dal prossimo 1 gennaio. Reati contro la pubblica amministrazione, ovvero corruzione, appropriazione in debita, peculato, malversazione, vuoto di scambio politico mafioso. Ne abbiamo parlato con il Procuratore Generale Guido Rispoli. Tutti i reati che si estinguono per prescrizione sono una sconfitta perché è tutta un'attività lavorativa che viene svolta dalla Polizia Giudiziaria, dai pubblici ministeri, dai giudici al dibattimento che con la prescrizione viene cancellata senza alcun risultato. Il rischio che si corre cancellando la prescrizione è che questi processi non abbiano mai una fine e che quindi un cittadino che per previsione costituzionale fino alla sentenza definitiva è innocente, si veda tenuto sotto processo per tanti anni e questo sicuramente non è una cosa civile. In questo territorio sono in aumento anche i reati contro la pubblica amministrazione commessi dai cosiddetti colletti bianchi ma alcune volte anche dai rappresentanti delle istituzioni stesse. Le procure che fanno? Allora questi sono secondo me in assoluto sulla base della mia esperienza professionale i reati più difficili in assoluto da contrastare. Faccio un riferimento che tipico lo fa il presidente Davigo che è stato presidente della sezione della Cassazione e sono difficilissimi perché qui c'è un incontro di interessi, cioè chi paga e chi è pagato hanno interesse entrambi a tacere. Sono indagini difficilissime perché lei può fare intercettazioni telefoniche, ambientali e quant'altro ma è evidente che il colloquio e anche la corruzione passa su canali di informazione che sono criptati. I meccanismi, quelli del passaggio della mazzetta che sono stati diciamo tipici del periodo di Mani Pulite degli anni 90, secondo me oggi non sono più attuali. Le corruzioni non vengono più realizzate se non in corruzioni di piccolo cabotaggio attraverso la dazione di denaro ma attraverso scambio poi di favori. Però ecco le prove per raccoglierle, dicevamo prima, al di là di ogni ragionevole dubbio è un compito difficilissimo. Lo stesso Raffaele Cantone prima di lasciare l'anaca ha denunciato che il fenomeno corruzione esiste anche in Molise. Appunto, ha segnalato questo dato, so che si è stato fatto un riferimento se non sbaglio, c'erano pochi arresti o non c'erano arresti, ecco una zona, ecco questo l'ho trovato ingeneroso e secondo me io non lo condivido. Nel senso che l'arresto è un momento spettacolare, lo dico tra virgolette, nel senso spettacolare dal punto di vista mediatico. Io mi sono sempre considerato un pubblico ministero da certificato penale, cioè secondo me i processi si vedono non al momento dell'arresto ma quando arrivi in fondo e se il soggetto viene condannato o meno e va sul certificato penale. Abbiamo tutta una serie anche di procedimenti per corruzione, per reati contro la pubblica amministrazione, peculati, voi sapete anche che hanno riguardato il mondo politico e della pubblica amministrazione del Molise. Quindi, ecco, indicare il Molise come una terra dove non si fa poco, mi pare di capire, perché soltanto sono pochi arresti o zero arresti, secondo me è un dato che io non condivido perché il dato di valutazione sono altri. L'arresto è il momento spettacolare, bisogna vedere quanti processi vanno a giudizio, quanti vengono condannati e oltre alle corruzioni ci sono le concussioni, ci sono i peculati, insomma credo che stiamo cercando di fare quello che si riesce. Un'ultima domanda, dottor Ispoli. Lei a inizio anno, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario, annunciò un'inchiesta in corso per reato di scambio elettorale, voto politico mafioso, inchiesta condotta dalla procura antimafia, a che punto siamo? Ecco, se mi permetti su questo, per un obbligo di trasparenza, dirò in sede dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Dio piacendo a gennaio di quest'anno, perché non sarebbe corretto in assoluto dirlo a voi qual è stato l'esito, qual è l'estato delle cose, comunque non mi sottrarrò a gennaio in sede di scorsi inaugurare l'anno giudiziario, ricorderò questa indagine e relazionerò su quello che è stato lo stato delle cose, per una questione di dovuta trasparenza perché l'abbiamo detto l'anno scorso, è passato un anno, il molisano vuole sapere ma che è successo, che avete fatto, ecco lì dirò quello che è stato fatto. Quindi lo scambio elettorale politico mafioso c'è stato? Questo non lo posso dire, questo non lo posso dire, attendo il procuratore D'Angelo mi darà, perché tutti i procuratori mi danno un riscontro delle attività compiute durante l'anno l'anno scorso mi ha segnalato questo episodio e quest'anno sicuramente mi relazionerà su quello che sono stato lo sviluppo delle indagini, quindi quella sarà la sede opportuna.